Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Matteo Renzi sale al Quirinale, un po' come se fosse il capo dello Stato, il capo del governo, lui si sente quello che non è. Vi ricordate il confronto televisivo con Salvini perché lui si sentiva lo sfidante di Salvini, si sentiva il candidato premier per il centrosinistro. Aveva appena fondato Italia Viva e già voleva scontrarsi con Salvini da Bruno Vespa perché lui già era avanti. Adesso sale al Colle, Renzi sale al Colle. È una settimana che racconta traballe, tutto fatto per poltrone, per trapuntini, strapuntini come dice lui. Adesso sale pure al Colle. È veramente incredibile, non sa più cosa fare per mettersi in mostra, non sa più cosa fare per aumentare la percentuale dei votanti del suo partito. E così anche lui sale al Colle. erano mesi che i due non si vedevano. Chissà Mattarella quanta nostalgia aveva di Renzi. Ma quindi mesi che non si vedevano e ne si contattavano. Pensate un po'. Ma il Quirinale dice non vogliamo trascurare nessuna voce, quindi ascoltiamolo. Con questo Renzi non sa neanche più come fare per far capire a Conte che vuole delle poltrone. Probabilmente Conte non gli ha proposto nessuna poltrona e lui fa il matto. Domani dove andrà? Andrà in pellegrinaggio a Meggiugori? Chi lo sa. Non c'è stato nessun comunicato ufficiale da parte del Capo dello Stato. Il colloquio viene classificato come uno dei tanti che il Presidente della Repubblica ha riservatamente ogni giorno. E Matteo Renzi si è limitato a confidare l'incontro solo alla cerchia dei fedelissimi. Ovviamente ai fedelissimi dicendo ai fedelissimi di dirlo ai giornali, dicendo che lui non l'ha voluto far sapere ma è trapelato. Pensate tutta l'architettura che c'è dietro a ogni mossa di Renzi. Lo dice i fedelissimi dicendogli, però andate subito a dirlo, dicendo che doveva essere riservato. Ma di nuovo questa udienza dal Capo dello Stato a metà dicembre è una novità, un piccolo evento mediatico come al solito. Non si vedevano da mesi. In privato Renzi non nascondeva un'irritazione nei confronti del Capo dello Stato che pure aveva contribuito in modo decisivo a fare eleggere nel febbraio del 2015. Beh, intanto ancora pensa alla sconfitta del referendum nel 2016 e dalla formazione subito dopo del governo di Paolo Gentiloni che viene indicato come il peggiore della storia della Repubblica Italiana. Bene. Un altro ex alleato e amico di Renzi con il quale si sono interrotte le comunicazioni con Paolo Gentiloni. Gli ha portato via il posto. Imperdonabile. Beh, Mattarella però ha deciso che la piccola formazione guidata dall'ex segretario del PD andava assondata in una fase così decisiva. Non voleva trascurare anche la voce dei Renziani. Nonostante Renzi nei sondaggi sia quasi inesistente. Beh, diciamo che più di un disgelo, diciamo una ripresa di dialogo. Il Capo dello Stato non sperava di distogliere Renzi dai suoi obiettivi bellicosi nei confronti di Giuseppe Conte. Voleva capire le vere intenzioni del suo interlocutore, che è difficile perché anche Renzi è il classico falsone, è il classico cacciaballe, no? Ci sono tanti nomignoli che gli hanno affidiato in questi anni, che non sto qui a ripetere, sennò poi Renzi si offende. Bene, avrà capito Mattarella realmente cosa c'è nella testolina di Renzi? Credo di no. Non credo che sia riuscito a decifrare la situazione. Ma intanto il Capo di Italia Viva ritiene che entro il 10 gennaio Conte debba dare delle risposte alle richieste del suo partito, altrimenti aprirà la crisi. Prima si parlava del 6-7 gennaio, adesso altri tre giorni siamo al 10 gennaio. Intanto Conte ha già cancellato per finta il recovery, la struttura che dovrà gestire quella task force, che doveva gestire il recovery plan, ha fatto finta di cancellarla dicendo va bene, ok, non esiste più perché non c'era mai stata, ma comunque ci vorrà poi qualcuno che controlla, che sarà sotto i ministeri, non più sopra i ministeri, ma non l'avevo mai detto, dice Conte, no? Bene. Basterà questo affermare Renzi? A Renzi interessava veramente la task force? Gli ne fregava veramente qualcosa di questi manager? o gli interessava le poltrone che ricoprono questi manager? Ecco, bene, anche questo non si sa. Beh, soprattutto non è chiaro se questo passo indietro di Conte seguiranno altri sulla delega ai servizi segreti, il prestito sul MES sul quale pesa comunque il veto dei 5 stelle, anche se comunque Conte non è comunque d'accordo, indipendentemente da quello che pensino i 5 stelle, Conte comunque non è d'accordo, non è d'accordo su prendere questi soldi. Bene, ufficialmente non se ne trovano molte tracce di cambi dell'ultimo minuto. Il tentativo di Renzi di accreditarsi come rompighiaccio di una svolta di governo è rimasto incompiuto. Nel senso che sia il grillino Di Maio, sia Nicola Zingaretti, segretario del PD, forse non sono stati a guardare senza fare molto per difendere Conte. Quindi intanto il premier sicuramente è un accentratore, un temporeggiatore, ma poi di fronte alle accelerazioni renziane si sono smarcati e tendono a dire è lui, è Renzi il guastatore, ma e ne prendono le distanze perché non vogliono che loro siano additati come complici di un'eventuale caduta del governo perché quello porterebbe a un'ulteriore discesa dei sondaggi. Abbiamo visto oggi in un sondaggio il Movimento 5 Stelle dato al 12,7%, il più basso veramente dell'ultimo anno, anche forse degli ultimi due anni, così in basso non era ancora stato dato. Intanto accreditano un Renzi in rapporti con Mario Draghi, l'ex presidente della BCE. Per alcuni è il candidato ombra a succedere a Conte. Bene, vedremo quello che succederà e ci aggiorniamo se volete nel prossimo video tra circa una ventina di minuti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti quanti. Arrivederci.